Vogliamo cominciare con un po' un riassunto di quello che potrebbe essere la sensibilità. Come si dice in spagna? Metti finalmente prima dell'atto. Elvì, allenate perché me devi guardare. Sottecchi, nella posizione. Sì, la parola è importante. Sia detta che... La descrizione. Mi piace la parola sincera che mi manifesta ciò che sta... Guarda dietro che ti dice la parola giusta, quindi fai quello che devi fare. Eh vabbè, puoi sempre cambiare. Necessità, perché accompagnandomi con persone non proprio giovani. Molto essere toccato. Come? Io ho due erotico, anche a me piace insomma la decisione, poi magari più deciso. Passare in queste due sensazioni a me piace. C'è qualcuno a cui non piace essere toccato o toccate in una specifica parte del corpo? Per esempio, alcune donne non piace essere toccate sui piedi. Sì, sei un abbondante. Tipo l'orso con il... Non sono d'accordo. Ma c'è chi dice sì? Non sono d'accordo. Walter? Cioè perché piace in quella maniera e quindi... È vero, gli odori del dopo coitali, non dopo il coito. Non sono... Adesso mi voglio spostare invece vicino a... Quindi soprattutto nella parte femminile. Mi sento di sconsigliare agli uomini di prendere esempio dai rafter. Il gusto e i preliminari, secondo voi sono una coppia perfetta? E non può esserci partenza, secondo me. Ma un bambino... Chiudere come di consueto... Al gusto di rossetto. Come? Al gusto di rossetto. Al gusto di rossetto. Adesso si parla di gusto. Gusto, Anna Foglieri.